Il detersivo in polvere è uno dei prodotti più efficace e concentrato perché è possibile escludere la componente di acqua presente. Sono tante però le persone che si chiedono se la polvere non ostruisca gli scarichi della lavatrice e della lavastoviglia. Ma è vera questa cosa? Ciao, sono Bruno Toresan, fondatore di Almacabio e da 40 anni mi occupo di detergenti. I detersivi sono composti da diversi ingredienti e ciascuno di questi svolge una sua funzione. Per semplificare adesso possiamo dire che c'è una componente che rimuove lo sporco e che quindi lava in poche parole ed una invece che neutralizza il calcare presente nell'acqua, facilitando il lavoro a quella che lava. Quest'ultima componente si chiama complessante e di ingredienti che svolgono questa funzione ne esistono svariati. In particolare nel passato e anche molti dei detersivi convenzionali di oggi vengono utilizzati gli zeoliti in una percentuale che può raggiungere anche un terzo del prodotto finito. Gli zeoliti sono formidabili nel catturare il calcare ma hanno il problema di essere insolubili nell'acqua. Che problema crea questo? Un detersivo in polvere che contiene zeoliti si deposita negli scarichi e può creare dei blocchi. Nei casi più gravi si devono fare delle manutenzioni agli scarichi o ai pozzetti dell'acqua. I detersivi in polvere ecologici invece costituiscono le zeoliti con silice e lamelare che sono completamente solubili e biodegradabili. Per questo la prossima volta che dovrai scegliere fra un detersivo liquido o in polvere sappi che un detergente ecologico in polvere è ugualmente efficace e non crea problemi ai tuoi scarichi. Se vuoi ricevere altri consigli su come utilizzare i detergenti ecologici continua a seguire la pagina di Almacabio e iscriviti alla newsletter al link che trovi in descrizione. Alla prossima!